Non mi riesco a immaginare che al contrario facciano la stessa cosa con il cristianese Certo che in Indonesia usino come grattino per la schiena un crocefisso Un crocefisso, esatto, poi lo rimettano, capito, non so, sul cammino così, no? Nel pollaio mettono questo crocefisso Quanto a me piace a me, quello sta alla sua croce, mi pare che me saluta Mi fa la luce tutto il pollaio Senti, il capotto te lo appendo qua Esatto, lo metto là, guarda Cashmere, un podcast morbidissimo Benvenuti alla sesta puntata di Cashmere, un podcast morbidissimo Io rifaccio il gesto perché mi è stato richiesto Giusto, giusto, stai sfidando Nur Sultan, il boss del... Certo che sì Noi facciamo solo quello che ci chiede il pubblico Sì, certo, certo Come qualsiasi broadcaster, come qualsiasi Netflix, Amazon Noi siamo proni ai desideri del pubblico Chi si espone poi legge sempre tutti i commenti Esatto In base a quelli non dorme la sera È vero? È vero o no? È vero, è vero Ci puoi confermare, no? Sì, sì, sì Sui commenti che sono stati fatti su di te, soprattutto Body shaming che io sto subendo, ragazzi Io ve lo dico Da settimane Se questo è l'unico difetto di questo podcast Beh, allora per me va bene così In tal caso Comunque sappiate che anche il signor David Bowie Non so se a qualcuno pizzicano le orecchie Quando cantava, fra le altre cose, la sua bella Space Odyssey Aveva i denti un po' ingialliti dalla nicotina e dal caffè Ora, qualcuno è andato a recapitare delle lettere Non so a quale giornale per dire Mi dà molto fastidio che quel bravo cantante androgino Abbia quei denti ingialliti Poi quando si è fatto i denti nuovi Trapiantati e tutto quanto Dopo i suoi anni di dieta a cocaina e peperoncino È morto Quindi penso un po' Questo per dire quanto può uccidere la pulizia dei denti E quanto Luca stia pedisseguamente seguendo la carriera del Luca Bianco Esattamente, esattamente Siamo più o meno allo stesso livello Cioè anche io mi vesto da donna e basta Ma noi in questa puntata volevamo parlare di religione Religione, oroscopo, scaramanzia Scaramanzia, tutto ciò che è ultraterreno Tutto ciò che non possiamo toccare con le nostre mani Nella nostra vita terrena Dunque, abbiamo avuto entrambi una formazione cattolica Cattolica, sì, sì, sì Tu sei battezzato? Io sono battezzatissimo Sei comunionato? Oh yes Sei cresimato? Sono assolutamente soldato di Cristo Sono nell'arma Quindi Sì, sì Alla caserma caserta Sì, sì, sì Attent Fed Creder Preger Est Cresim Sono diventato soldato Sì, ho fatto È brutto come ti fermano per stare Allora, che dobbiamo fare? Abbiamo la patente da religioso Assolutamente, come sta? Sono cresimato Ricordo, sì, sì, sì Ho fatto tutto quanto, insomma, l'addestramento Sono stati anni importanti Però, appunto, ripeto Adesso, insomma, sono nell'arma Non pago il cinema Non paghi il biglietto del tram Posso diventare atleta professionista Sempre all'interno dell'arma dei soldati di Cristo Posso fare il chirichetto gratis quando voglio Che è una cosa che puoi fare quando fai la cresima Tipico vedere dei 33 anni che fanno i chirichetti in chiesa Ma quel bimbo è un po' cresciuto Chirichetto a 33 anni Something went wrong No, più che altro Non sei riuscito a fare lo scatto professionale Per cui poi sei diventato prete Sei al di sotto del catechista Cioè, sei uno che di Battista poteva bullizzare all'epoca Sì, sì, sì Sai che di Battista c'è la leggenda Che era catechista e si rimorchiava le ragazze a cui faceva catechismo Che però avevano 13 anni Beh, spero che fossero più grandi all'epoca Non so Dove? Erano ripetenti E non lo so Dove potevano essere ripetenti Non te lo so dire Tu sei battezzato, cresimato, comunicato Battezzato, comunione, cresima E però io ho anche il plug-in per poi passare di livello Cioè, io ho fatto anche la professione di fede Che cos'è? Che è l'ultimo livello È quel momento di Dragon Ball In cui si fondono i due di Vegeta e quell'altro E puoi andare a combattere contro i grandi cattivi Perché è un extra plus Che è tipo la gold platinum di Italo È un NBA È una punizione È un NBA in cattolicismo 30.000 euro l'anno Esatto, si va a farla all'estero, poi viaggi E no, l'ho fatta perché sono stato messo in punizione in quarta ginnasio E quindi sono andato a fare la professione di fede Eravamo io e gli scarti del quartiere Cioè, figli adottivi Ma scusa Gente che già lavorava di 21 anni Scusa una cosa però Cioè, come funziona? Nel senso, devi fare un corso anche lì? Fai un corso Ovviamente fai un corso di catechismo con la catechista E c'è anche la figlia della catechista presente Perché comunque devi raccattare ovunque Anche nella stanza a fianco E fai questa professione di fede di cui non ricordo nulla Io non ricordo chi è rito Cosa consistesse il rito Non me lo ricordo Però sono extra-cresimato Sei extra-cresimato? Nonostante la mia... C'è una celebrazione C'è un qualcosa che si fa C'è una messa sportiva Una busta con dei soldi Sì, è una messa sportiva No, ecco Non ci sono Quello è il grande momento Non ci sono i grandi regali di quando diventi un soldato Esatto Qual è il regalo top che hai ricevuto tu? Allora ricevetti l'orologio L'orologio Che comunque si regala in questi casi Allora in realtà io ricordo la comunione Ho ricevuto un orologio che ho ancora Molto bello Ricevetti Non ricordo se al battesimo Quando si riceveva? Al battesimo o alla comunione l'oro? Quando è che ti regalano il porta-cravatta d'oro? Beh, al battesimo che poi ti torna utile Beh, sì Quando vai all'asilo con Prima cosa che ho messo a cinque anni Allora non abbiamo ancora il report di generali Cosa facciamo? Compriamo toro? Andiamo? Ok L'asilo a Milano è come andare a Palazzo Mezzanotte La busta Ricevetti degli ori per il battesimo, credo Che andai a squagliare nel 2012 O forse addirittura nel 2011 E acquistai un biglietto per un viaggio in Argentina Ho passato due meravigliose settimane Purtroppo non ho più quel bellissimo ferma-gravatte in oro Da persona che ambiva ad entrare nel PSI di Craxi Ma mi sono fatto due settimane straordinarie Era il perito moreno Era ciò di cui parlava Gesù al tempio Diceva proprio Andate e squagliate l'oro che vi regaleranno Per volare in Argentina e mangiare l'assado Alla faccia di quelli che non tifano per Gesù Esatto E buen viaje Anche io ho ricevuto l'orologio alla comunione Avevano un Sector Quindi che per me Sector e Rolex suonavano nello stesso modo Non proprio Però il volto della Sector allora era Patrick de Gaillardon Uno dei primi a fare Ma ricordo Ricordo vagamente quel Volare con la tuta alare Certo Pubblicità bellissima Io mi sentivo come Patrick de Gaillardon Purtroppo facevo uno sport per cui Quando fai allenamento devi concentrarti Come quando fai la gara E è andato storto qualcosa Non ha funzionato Non l'ho mai messo Pesava 50 kg E il mio polso da bambino Non era in grado di tenerlo No Però Le sterline te le hanno regalate Sicuramente sì Ma non ho ricordi Assolutamente No però per dire Volevamo parlare di religione Invece stiamo già parlando di rito Che è il classico E infatti Ci sta Nel senso Parlare di fede è sempre complesso Però quanto era divertente la religione Quanto era divertente andare in chiesa Sai quanto? Per nulla Neanche un po' Era una rottura Neanche un po' Ed è una cosa però che si fa per educazione cattolica Perché Si fa o si faceva Provocazione Provocazione A Taier tu con quel buon nome da cristiano Che ti porti dietro Puoi parlare con noi Oppure dobbiamo separarci No io mi sono fermato alla comunione Quindi sei comunicato comunque Per il discorso che hai detto te Che per una certa Mi sono rotto i coglioni Ho detto No voglio vedere i cartoni la domenica Vero Verissimo Perché uno dei momenti più brutti Della settimana Era quando stavi vedendo i cartoni La domenica mattina Arrivava il tuo papà A dirti Dai andiamo Che si va Non il mio papà Il mio papà Avrebbe detto Rimani a vedere i cartoni Rimani a vedere i cartoni C'era invece una mamma cattolica Che ti obbligava Ad andare a sentire No la madre Comunque ha detto Fai quello che ti pare Libero arbitrio Scegli tu E quindi il giorno in cui Anch'io il battesimo L'ho fatto tipo a nove anni Perché mia madre ha detto Sceglierà lui Se sarà cristiano Musulmano E tu a nove anni Hai detto Signore e signori Io a nove anni Ho detto Date me l'oro Voglio dite l'oro Sì va bene Fatemi mostadoccia Però quando è che andiamo a casa A rinfresco Con le pizzette Quando è che arriva l'orologio Dov'è nonna Col suo bel cd Di Severino Gazzelloni Da regalarmi Che Severino Gazzelloni Subì anche la censura Di Radio Vaticano La tua carriera Da flautista Traverso La signora Di fronte a casa Oltre a fare i regali Anche per la comunione Come usava un tempo Che i vicini L'anziana signora Mi regalò Mi regalò anche Il cd Di Severino Gazzelloni Probabilmente dicendo Così smetti Di solare te Che mi hai rotto I coglioni Vabbè Posso il suo pensiero Lo so Ma invece Carmelo Tu hai fatto Vabbè Parliamo della santa inquisizione Cioè Altri anni Sì Altri anni Ho fatto battesimo E comunione E ho fatto finta Di essere cresimato Per far da testimone A tre matrimoni Che adesso Immediatamente invalidati No perché non dirò i nomi Non ce lo puoi dire Ma in effetti Scusami Tu hai celebrato Di matrimoni Cioè Hai fatto il testimone Di alcuni matrimoni E non possono controllare Se sei cresima Dov'è scritto? Dov'è la patente? No 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 Come no? Te lo chiedono Io ho fatto Ma dove lo trovi il documento? È alla parrocchia Dove hai fatto la cresima Tu vedi e c'è una patente E hai ritrovato il vecchio prete? C'era lui? C'era il vicario Ah ok C'era un suo praticante Credo Non ti so dire bene Comunque si era una persona Che lo aveva sostituito Mi hanno dato L'ho tirato fuori da un cassetto Questo foglio Accartocciato veramente Con questa grafica Anni 90 L'ho preso E però ho rivisto Ho rivisto tutto Mi sono ricordato Gli anni della caserma E è veramente stato straordinario Tutti quanti i commilitoni Della balduina Sei mai andato in vacanza Col gruppo dell'oratorio Ho fatto il ritiro per la cresima Un momento straordinario Ho fatto il ritiro Perché prima di cresimarsi Si va in altura A respirare con l'ossigeno No 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 Si va a fare due giorni Di purificazione Morale ed etica Per cui noi andammo Se non sbaglio Ad Arcinazzo Savaglio Re de Mar No No proprio No a Playa de Bossa No Andammo ad Arcinazzo Sulle piane di Arcinazzo A Fiuggi Lì vicino Sì esatto E facemmo questo ritiro Nel quale siamo stati Per due giorni A pensare al Cristo Tu dovevi stare lì E concentrarti sul Cristo E più ci pensavi Più lo focalizzavi Più in qualche modo Ti depuravi Dai tuoi peccati Mi ricordo che c'era Questa cosa che Eravamo stati messi a dormire Maschi e femmine In due piani diversi Di questa struttura Fatiscente Che aveva visto A giorni migliori E c'era il prete Che si era messo a dormire Per terra In un corridoio All'imbocco delle scale Per salire al piano di sopra Perché comunque si temeva Che all'epoca Ragazzi di Avevamo Tre Brava Quattordici Tredici Era fra Era nei primi giorni Del Era sì Si andavano ai primi giorni Del ginnasio C'era il rischio Che comunque si andasse su A toccacciarsi Poteva succedere Qualsiasi cosa E quindi questo prete Che dormiva per terra Al gelo Al gelo Di settembre Ad arcinazzo Pregando che dei ragazzi Andassero a toccare lui No scherzo Esattamente Stavo lì Facile ironia però No no Pazzesco E mi ricordo Che siamo stati lì Dove ci hanno requisito I cellulari Al secondo giorno C'è stata una specie Di rivolta popolare Per cui io dico Ridateci cellulari Perché dobbiamo sentire Le nostre famiglie Sembra di stare In una grotta In Afghanistan Sequestrati dal Qaeda Però cristiana Ed è stato sì Quello è un bellissimo ricordo Io sai che non me lo ricordo Di averlo fatto questo Probabilmente non l'ho fatto Però ho fatto L'animatore Per l'oratorio Di San Teufemia Per tre stagioni Sai che ride La prima sempre in punizione Sono stato mandato E me la tiravo una cifra Perché avevo 15 anni Cioè capito che Comunque io Cioè comunque la religione Io ho già capito che Cioè questo non esiste Ti trasferisero a Ruzzano Sì sì Per tirarsela Certo E mi ricordo che Fui mandato in bianco Per un limone Da una ragazzina Che mi lasciò nella sua stanza Ad aspettarla per due ore Da due ore Dov'è che arriva il prete Dal piano Sul Straiato Sul pianerottolo Almeno lui A fare l'amore con me Fu bruttissimo Hai pregato Che arrivasse questa ragazza Stavamo a Temù Temù? Non so Val qualcosa In provincia di Brescia E l'anno dopo sono tornato Ma ci sono andato volentieri Perché mi divertiva L'idea di essere Una figura di riferimento Per questi Il soldato Joker Esatto E poi per il terzo anno Ormai ero grande Era divertente Quando si faceva la serata disco Andava allora Lollipop Di come si chiama Fifty Cent Ah certo Cioè c'era Candy Shop Candy Shop Scusami Però il passaggio particolare In cui lui diceva I'll let you lick the lollipop Con la suora Che stava ferma Dicendo Certo che questa musica Qua E suoni i giovani I'll let you lick the lollipop I'm melting your mouth They've been out of your hand Sai che la musica Questi qui sono neri Ma hanno il ritmo nel sangue Ciunghi a seumina Nostro lollipop Sono bravi proprio Quindi anche tu hai avuto Una formazione imposta E qui secondo me C'è un po' il discorso Del cattolicesimo Che comunque c'è la colpa Cioè sei stato cattivo E quindi ti mando a catechismo E quindi ti faccio fare La professione di fede E quindi ti mando il primo anno A fare l'animatore Diciamo ha funzionato Per tanti secoli Ormai direi Che bisogna trovare Un altro modo Per sedurre i giovani Perché non funziona più No purtroppo no Purtroppo no Però c'è una grande riscoperta Della fede Devo dire Ci sono molti Molti giovani Stanno tornando ad essere credenti Ci sono però Credo c'è una crisi Delle vocazioni Non credo se Sì non credo che oggi Come oggi Uno dei lavori Che puoi trovare su LinkedIn Top applications C'è a prete o suora Esatto Non so se sia abbastanza dura Guarda non sapevo se fare Ingegneria gestionale Oppure se fare giurisprudenza Allora via Sei entrato in seminario Ti apre un sacco di porte Guarda che ti devo dire Ma C'hai mai pensato Anche solo vagamente Hai ricordi Nell'infanzia Aver mai pensato Anche solo secondo Certo che però Il prete Onestamente no Neanch'io Non ho proprio mai avuto Quel tipo di vocazione Sai chi secondo me Ci ha pensato Anche solo per scherzo Carmelo Per un secondo Ha detto Voglio diventare cardinale Della diocesi di Roma Quindi papa Assolutamente no Però quando vedo Un'ichirichetta Una certa invidia Ti dirò L'ho avuta Per due secondi Ho detto Ma questi sono vestiti fighi Sono biondi Con gli occhi azzurri Tutti biondi Con gli occhi azzurri E dove andavi In chiesa A Dussi Sempre domande di geografia Mi fanno No e poi c'era il problema Della confessione Beh uno dei momenti Che era un tema pazzesco Ah io Guarda un ricordo Che ho pazzesco Di quando andavo in chiesa Da bambino Io entravo in chiesa E nella mia mente C'erano solo bestemmie Cioè io guardavo Il crocefisso E da bambino Io ero terrorizzato Dalla bestemmia Quindi guardavo il crocefisso E no ti prego Non pensare Non pensare E avevo solo Cioè Titoli di coda Di Titanic Con solo bestemmie E io pensavo Oddio Per questa cosa Io brucerò All'inferno E mi ricordo Che quando andai A confessarmi Per la prima volta Prima di fare la comunione Tipo andai lì Dal prete Io così Ho disobbedito I miei genitori E poi ho Insultato Il Ho insultato Il signore In che senso In senso che ho Pensato Delle parole Di insulti Verso il signore Due ave marie E vado a comunicare Prima confessione È molto divertente Perché intanto Non sai che devi farla Te lo dicono un giorno Esatto Tu non sei preparato Non hai peccati Nella tua vita Perché sei un bambino Non hai fatto niente di male A che età ci si comunica È prima della E della comunione Dieci Quindi a dieci anni Ma mi sa che sono cambiate Le regole Adesso entri Nell'under 21 Cioè è tutto cambiato Sono cambiate veramente La prima confessione Sì è stranissima Tu vedi Ma ti è mai capito Di andare a confessarti Dopo? Cioè Intorno ai 28 30 anni? No 28 30 no È un po' che manco Del confessionale Quando ho scritto Il mio pezzo Un pezzo che ho fatto Sulla confessione Sono andato Per vedere Com'era di nuovo E mi ero scordato Di quanto poco Gli ne fottesse Al prete Gli ne fotte Un cazzo Un cazzo di niente Sono andato a Santa Maria Maggiore Quindi una chiesa di livello Roba forte La Santropea delle chiese E c'era questo prete Che veramente Stava sonnecchiando Pensando alla gastrite sua E cazzo E gli ho detto Un po' di cose E vedevo Sentivo soltanto Lo schiocco Delle sue labbra Ma veramente Allora Veramente per tenersi sveglio Sì 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 Poi mi hanno detto Vai sparati I soliti preghiere Ho detto Vabbè allora Forse quando ero giovane E non riuscivo più A interessarmi a questa cosa Forse aveva un significato Ma guarda che fare il confessore È come fare l'avvocato d'ufficio Nei tribunali È veramente È la stessa cosa Mi rimetto Mi rimetto alla clemenza E qui poi è interessante I motivi principali Capito Cioè veramente Fa veramente ridere Pensare questo Io ho scritto un pezzo Sul tema Non mi riesco a immaginare Che al contrario Facciano la stessa cosa Con il cristianese In Indonesia Usino come grattino Per la schiena Un crocefisso Un crocefisso Esatto Poi lo rimettano Capito? Sul cammino Nel pollaio Mettano questo crocefisso Quanto mi piace Quello sta alla sua grossa Mi pare che me saluta Mi fa una luce Tutto il pollaio Senti il capotto Te lo appendo qua Esatto Lo metto là Guarda Mi fa ridere Perché così parlano A Bangkok Sì sì Contadine Però davvero A me fa molto ridere Il mondo della filosofia orientale Ogni volta che leggi Ma anche solo scorrendo su Instagram Un meme con una grande frase Dal mondo orientale Zen Per calmarti Quanto sia profondo E straordinario Quello che leggi Poi nel momento in cui Ti ricordi di vivere In occidente Diciamo Quella roba Non si può applicare a nulla 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 di nulla Nulla Cioè tu leggi Queste frasi bellissime Ne abbiamo qui alcune Questa è una frase di Thich Nhat Hanh Che credo sia vietnamita Però non lo so Ho ordinato più volte Al ristorante Sicuramente sì Con magari Con meno glutammato Grazie La nostra vita È lo strumento Mediante il quale Compiamo esperimenti Con la verità Che è una frase Bellissima Se ci pensi È proprio Aspetta è bellissima Poi Flop Ah finito di cagare Esatto Ma si possono fare Anche altri esperimenti Sedendo quieto Non facendo nulla La primavera arriva E l'erba Cresce da sola Poi però realizzi Che il tuo più grande Problema di quel giorno È che quella merda Del gommista Non ti ha ancora Chiamato Per dirti Si ha messo le gomme Quattro stagioni Alla macchina Perché per Dio Devi andare in montagna E non vuoi montare Le catene È Cristo E il proverbio zen Poi vai da lui E lui ti dice però La stessa identica cosa E lui ti dice Chi sia contento Di essere contento È sempre contento Sì ho capito Ma la fattura La facciamo La facciamo Come dobbiamo gestirla La facciamo La facciamo Dottor È vero che Noi siamo molto affascinati Diciamo dall'esotismo Delle religioni orientali Però non ne sappiamo nulla No per nulla Io sono cresciuto Osservando mia madre Che negli anni 90 Si faceva sedurre Da ogni tipo di moda New age New qualsiasi cosa Era la protagonista Di una sitcom media set In cui c'è così E poi c'è lei Un po' strana La mia amica un po' strana Un po' Phoebe di Friends La mia amica un po' strana È un po' la mia mamma È un po' la mia mamma Cioè martedì Era diventata celtica Irlandese E solo croci celtiche Sul braccio Celtica È stato così Sicuro Guarda che Poi si era anche fatta Tatuare Esatto Menta udere sempre Per credere e obbedire con Batti Ti piace? Ho fatto questo Ho fatto tutto quello Ma 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 Questo fuori da un cimitero irlandese Non penso che si possa mettere Eh però è bello E ci portava in giro Per i grandi luoghi Dell'esoterismo In Irlanda Siamo stati Siamo stati a Stonegg Mia madre ha portato Poveretta A Stoneggio credo sia bello Non ci sono mai stata Sì bello Vabbè quella è una fregnaccia È una fregnaccia Per culo Ma certo T'hanno messo la doserci Stavano andando là Ah sì C'è sta prezzemolo Fatto le rocce Dai Stanno a Pia per qua De Laurenti Si ha fatto Cinecittà World Esatto Stoneggio sta là La stessa cosa Che 1800 Gli inglesi stavano impazziti Si aveva portato Tre stronzi Che pensavano solo all'Inter Cioè mio padre E me E mio fratello Che le tiravamo i sassi A Stoneggio per dire Andiamo a mangiare Fish and chips Ci siamo rotti Quindi lei poverina Combatteva contro Questi cretini Ma dopo il grande momento Dell'Irlanda Accompagnato dalla colonna Suona di Enia Io tutt'oggi Si sento Orinoco Flow Mamma dove c'è E il cielo di Irlanda Di Fiorella Mannoia Dio di Dio Luce da luce Dio vero da Dio vero Che io ho messo In una compilation Che ho in macchina Si passa da Carl Brenner A Colonna suona Di videogiochi E poi Il cielo di Irlanda Ti seguo Zingariore Che bello Al mondo degli indiani Indiani d'America Bello E lei vi ha portato In Sud Dakota Siamo andati Nello stato di Washington Idaho E Oregon Sulle tracce Del Di capo Giuseppe Capo di Non so che tribù Capo Giuseppe Si chiama Ma chi è Tipo gli squallor Capo Giuseppe De Vico Giuseppe De Vico Capo dei Siuc Noi facciamo Il caffè Ancora Vecchia maniera Poi mettiamo Le ciabatte Il cappellone O cappello Pidiamo un cavallo E il rituale Di tirarle i sassi Anche lì è stato fatto Io ricordo Che lei è andata A fare dei cenni Non proprio chi ha Di cui diciamo Il mondo cattolico Non sarebbe stato Di studiare Tipo saluti Particolarissimi Ma io penso Che mia madre Abbia sferrato Anche il mondo Delle sette Adesso Mamma so che L'ho ascoltato Però io so Di un incontro Con una persona Che diciamo Quando era il giorno Dei mai 12 dicembre Credo fosse 12 dicembre del 2012 Che aveva fatto Questo aperitivo Per la sera Poi me l'ha raccontato Dopo che avete fatto Questo weekend insieme Io ero Col sangue e poi ho detto Ma stavate per bere Cicuta E salutarci Perché questa amica Sua è rimasta male Che il mondo Non è finito Beh Dopo che comunque Gli ha dato 4.000 euro Secondo me Allo sciamano Cioè E io le ho detto Mamma porca miseria Non cascare Tutte queste cose Però alla fine Si sono sbagliati Solo di 8 anni Tutto Sì Se poi ci pensi È vero Cioè Meme molto divertente Del Maya dislessico Che ha sbagliato Non si dice dislessico Ma dis Distopico Come break mirror Quindi le grandi Io Mia mamma ha flirtato Le le ho fatte tutte E io le ho seguite tutte Cioè le ho viste tutte quante Mi è stato regalato Per dire il quadro astrale Per i miei 18 anni Che cos'è il quadro astrale? Un oroscopo Spieghi il candidato È il cashmere degli oroscopi Ok Cioè è una cosa fatta bene Che costa di più Ok Come le Lacoste Cioè ti dura di più E quindi la compri una volta sola La compri una volta sola È tipo il calendario perpetuo Cioè tu puoi capire Come va la salute Nel maggio del 2029 No Non è proprio così No Una formazione da occidentale Chiedo scusa No È bello profondo Bello calcolato Bello preciso Anche questo Sì Ne fattura ovviamente Certo Però sì Insomma è un po' più Un po' fatto meglio Come tutte le Se ci credi funziona Io devo dire Che per quanto l'abbia preparato Un'amica di mia mamma Che io odio Che è una fattucchiera Sì Le cose che mi ha detto Da allora io ci penso ancora Perché questa è la grande fede Di cui un po' hai bisogno Quando te lo dicono Un po' ci credi Qualsiasi cosa Per me è così Ma tuo padre come si relazionava Con queste credenze Di tua mamma Se andiamo in America Non frega un cazzo Voglio andare a Seattle Perché c'è Ti piace il grunge papà Seattle La città di Jimmy Hendrix Mi piace Un corco bene Un grande In utero Bellissimo No mio padre Anche lui Tirava i sassi A mia mamma Lei ha combattuto Cercando di portare La grande cultura Anni 90 Appunto New Age L'apice Sto a vedere mia madre Con una sua amica Che si erano messi Dei pendagli Con delle piume Di uccelli Credo Sui capi Mia madre un po' brilla Sì 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 Quello che poi era Grande gioia Dopo l'oroscopo Si sboccia E via E aver pensato Caspiterina Sta succedendo Però poi È tutto a posto E penso che ognuno Sia libero di credere Diciamo in quello che vuole Una cosa molto bella Che faceva mia mamma Che era cattolica E lei diceva il credo La mitica La hit Per me la hit Numero uno Del rito Ma saltava dei pezzi Perché su quelli Non era d'accordo Non ci voleva mettere le mani Che crede In una chiesa E in un solo dio E anche lì Al predio ha fatto Ha sbagliato E lei no? C'è una pausa Come dire All'esame di flauto Tua mamma O tuo papà Hanno mai portato Appunto questo genere Di ispirazione In casa Guarda no Allora devo dire Che i miei Ci hanno dato Una formazione Cattolica Però laica Cioè non so come dire È sempre stata una cosa Un po' guarda Allora Alla balduina Si usa andare a fare catechismo Si usa persino Andarsi a cresimare Io poi mi incazzai Per la cresima Perché non ci volevo andare Però poi da bambino Responsabile andai Perché pensavo Alla fine c'era Riccardo Bruno Era capito Un po' una cosa Tipo la settimana bianca Quindi alla fine Mi sono cresimato No guarda Ricordo però Che da bambino Appunto Feci il catechismo Alla stella mattutina Che è la chiesa Di Via Lucilio E lo ricordo Come realisticamente La cosa più noiosa Della mia vita E ho studiato Giurisprudenza Diritto tributario Cioè ho fatto delle cose Che hanno veramente Messo le mie sinapsi A dura prova Però veramente Ricordo che Fare questi studi Perché poi mi sembravano Cose ovvie Non so come dire Forse già all'epoca Ero in qualche modo Così consideravo Delle cose Vabbè sì Chiaramente amiamoci tutti Chiaramente Non desiderare La donna ad altre Chiaramente non uccidere Parliamo Passiamo a cose Un po' più pragmatiche Non avevo capito Che in realtà Era una roba Di formazione spirituale Cioè che poi Mi avrebbe accompagnato In tutti quanti Gli anni successivi Sai quante volte Io ho pregato Perché l'Inter Vincesse la Coppa Dei Campioni E vedi quante volte Io ho stretto le mani E detto Dio Ti giuro se ci sei Fammi sta cortesia Perché sono tanti anni Che vince il Milan Che ci fanno un culo così Ma sai con mio fratello Una volta ce lo siamo detti È stato un momento bellissimo Quante volte hai pregato Per l'Inter E mio fratello Non ha detto niente Sono fatto E però Dio E poi ti rispondeva Uè mi sono cacciavita Non si dice cacciavita I milanesi Io è milano Però è milanista Probabilmente è vero E lui mi ha detto Quante volte E poi finalmente È stato esaudito Il nostro desiderio Perché così funziona Adesso io ho preso in giro Mia mamma Per queste cose Perché era divertente Farlo un tempo Ma io ho un sacco Tu sei scaramantico Io Stiamo facendo un mischione Abbastanza libero Noi parliamo di tutto ciò Che è esoterico oggi Io sono scaramantico Sì Soprattutto per quel Che riguarda il mio lavoro Cioè hai due o tre rituali Se puoi dirli Perché non tutti Ma no no Io lo dico Io lo dico E io allora Prima di esibirmi Quando sono in camerino Allora ho una cosa mia scaramantica Cioè bevo mezza birra Quindi se la bottiglia è da 33 Bevo 16,5 Cioè non deve essere Cioè ho proprio una cosa mia Di controllare Non un millilitro di più E Ho questa cosa che salto E penso Andrà malissimo la serata Fai cacare Non fai ridere Andrà tutto malissimo Nessuno è qui per te Ed è la mia cosa Che mi rende tranquillo Poi vado E alla prima risata Dico Ha funzionato Bello bellissimo E quindi ho E lo faccio da sempre È un mio rituale Da sempre Io ne ho uno Che è Battermi Un pugnetto Sette colpi Sul cuore E uno sulle palle Ok Che uso anche quando L'intertira i rigori Piano E poi fare così Con la bocca Ok Poi non mi posso Allacciare le stringhe Da casa Al locale in cui vado A fare la serata Le stringhe devono essere Allacciate prima Se le devo allacciare Vuol dire che andrà male E un vecchio rituale Era che quando facevamo Le prime serate Se Stefano Arapone Grande comico Mi toccava La spalla Io andavo una merda E un giorno glielo ho dovuto dire Gli ho detto Ti prego non toccarmi Perché io vado male Perché io non pensavo Stefano fa dei pezzi Da cinque minuti Che sono una bomba E questa cosa mi schiaccia Psicologicamente Pensavo È lui che mi ha toccato È certo Altre donne E in realtà Un sacco di gente Perché soprattutto Nella stand up A differenza Un sacco di comici Esatto Nella stand up C'è questa cosa Che fa cacare Di fare i bulli Verso chi ha fede Fare i bulli Nei confronti Della religione Cioè una buona parte Della stand up comedy Nostrana Irriverente È questo fatto Ma poi vi rendete conto Cioè c'è sauro Un cielo Che ci ha detto Non desidera La donna d'arti Ma sai come Voglio scopare Tu moglie E però voglio dire Non è questo il modo In cui Cioè quella si chiama Sarebbe bello Solo se entrasse il marito Nella schiaccia Ma che cazzo sta a dire Perché sei scemo Scusa Che tu Te lo devi dire Dio Te lo devi dire Dio Ma rispetta Il nostro signore Gesù Cristo Vai a casa Vai a casa Esatto E veramente È un atteggiamento Che mi dà molto fastidio Perché Mi sembra sempre Che a parte La fede è fede Quindi se una cosa Ti risulta un pochino Irrazionale Indovina un po' È proprio Cioè ci devi credere Cioè non è che Non è che Dio ha detto Guarda Se prendi due tre mezzini E ne mangi uno Ne rimane uno Cioè comunque Sarebbe stato un po' Troppo semplice Come insegnamenti Ha voluto lasciare Delle cose In quali uno Se vuole Può credere o meno Poi vabbè C'è il Tutto quanto il discorso Del bestemmie libero E il divertimento Cos'è questa cosa Che hai scritto? Ah Come le bestemmie libere O il divertimento Ah non so perché L'ho scritto però Che le bestemmie Fanno ridere Sì Però cioè Poi dai 14 anni in poi Meno Nel senso A un certo punto C'è un mondo Di intrattenimento Dove le bestemmie Sono liberissime Tipo Twitch Così Non si può dire La N word Non si può dire La F word Ma bestemmi Come se fossi Uno che ha C'è uno A Firenze Che c'ha la macchina Doppia fila Con la multa C'è la macchina E allora non mi fa Però volevo citare una cosa Che disse Luca Vecchi Molto divertente Cioè quanto sarebbe bello Chiudere ogni bestemmia O ogni sketch Con una bella bestemmia E invece no Invece dovemo far ride Che vita del merda Per dire quando scrivevamo Insieme Che lui voleva chiudere Ogni sketch Nello stesso identico modo Ma non si poteva fare Il che è esattamente successo Per in un milione di sketch Cioè se tu ti senti Gli ultimi tre secondi Su YouTube Prima che riparta la cosa C'è sempre una frase Il montatore Deva sempre tagliare Appena prima Rassegnare Per la fine dello sketch Uno dei temi Di cui abbiamo parlato All'inizio della puntata È proprio quello Dell'oroscopo E l'oroscopo in Italia È una cosa su cui Non si scherza Non si scherza Ma perché? Perché è vero Perché l'oroscopo Effettivamente funziona Questa è assolutamente La nostra posizione Certo Abbiamo detto Di mantenere questa posizione Assolutamente Abbiamo mantenuto Sì sì Perché già non stiamo facendo Un mischione generale Ma ci sta Perché così si parla di Noi oggi parliamo Di tutto ciò che Appunto ripeto Non è tangibile Compreso l'oroscopo Molte persone basano La propria giornata Su quello che ha detto Il dottor Branco Il dottor Brezni Il dottor Fox L'oroscopo della metro Atac Quando stai a termine Stai aspettando Il treno per Re Bibbia E c'è scritto Amore Quattro Soldi Due Due Chiusa Battistini Direzione Cioè sicuramente L'oroscopo dell'Atac Dovrebbe essere A causa di disagi sindacali Saranno chiuse Quattro fermate Ci sono stati Di problemi sindacali Noi siamo stati Abbandonati E per questo Oggi sciopereremo Lavoro Tre Per riprendersi Dopo C'è un sacco di persone Che quante volte Nella vita ti è capitato Di sentire qualcuno Che a fine giornata Durante la giornata Diceva Eh mannaggia Oggi Oroscopo Ma aveva proprio detto Che andava così Ma certo Che te l'aveva detto Ma hai fatto male Uscire di casa Hai fatto male Ti aveva detto Piglia una corda Piglia uno sgabello Esatto Quello Sgabello Voto 4 Corda Voto 5 Voglia di fare Vabbè Tornano domani No scherzo Però io lo trovo Un modo molto Superficiale Se posso dire Di approcciare La giornata Manalmente La giornata Io però Sono talmente fissato Che quando ho Un oroscopo davanti Volto lo sguardo Non voglio leggere Non voglio sapere Mi dà proprio fastidio L'idea che Io posso essere influenzato E allo stesso modo Che qualcun altro Possa essere influenzato Però questo è il mio modo Di vedere Sbagliato E figlio di una mente malata Di uno che tirava i sassi A sua madre Se stava a Stonehenge Quindi ci sta Però Mi interessa il modo In cui le persone Si approcciano E per questo Luca Ravenna Bilancia Questo è il Key di questa settimana Bilancia Branco Le stelle di Branco C'è un solo astro Un po' così Ma trattandosi di Venere Voi sentite di più La quadratura del Capricorno In flusso Che accende polemiche In famiglia Leitmotiv Della sua Stand up comedy Anche il sole Insiste sulla stessa questione Ma solo fino alle 19 Problemi che riguardano La casa Proprietà di famiglia Questioni legali Non risolte Sono cazzi eh Dopo il 19 Sole entra in acquario Si apre un periodo Di grande respiro Per gli affari Ma il suo influsso Arriva pure all'amore Avrete un momento Di scosse elettriche Tra virgolette Provocate da Urano E Marte Insieme al primo quarto Di luna In toro Il 20 Marte Taurino Porta un uomo Molto macio Allora Se tu Incontro si Scusami Un vero macio Intelligente Come il toro Che sono io Ma scusa Ti leggo il tuo toro Però Quello che io ho sentito Mentre leggevi È questo Allora Madonna Questa sono troppo io Sono troppo io Sono troppo io Sa che avere bannere Gaddure Bas Rivedalle No vabbè C'è questa piglia troppo Toro Quindi sei il maschio Taurino e macio Che sto per incontrare Stasera Dopo le 19 Quando il sole è calato Io e te scopriamo E sarà anche Cadutissimo il governo Beh Se proprio doveva succedere Meglio saperlo prima Andiamo insieme in farmacia Buongiorno Scusami Volevo chiedere E un pacco di preservativi Esatto Perché stasera Sicula Ha detto branco C'era detto branco Sì no Prima devo parlare Devo parlare con l'avvocato Poi dopo Sicula Allora Toro Mantenete la calma Non fatevi trovare Impreparati Dalle stoccate Di Saturno e Giove Mi mostri Come mantieni la calma E non ti fai trovare Impreparato Dalle stoccate Due pianeti Che stanno a Due triliardi Di chilometri In distanza da terra Allora Basta Far rumore lassù Va bene Queste stoccate Madonna Non vorrei mai Trovarmi in casa Con branco da solo Non ho idea Di cosa possa Come possa essere Arredata a casa sua Esatto E questo è Il settimanale Penso più letto L'oroscopo per le signore Che si tengono informate Sull'attualità Leggendo Chi Signore E signori Peraltro Samantha Markle Mia sorella Megan È un'arrampicatrice sociale Orietta Berti Da se vogliamo Da se vogliamo Il king assoluto Pavloni Ruda Diciamo che Conoscere bene Questo oroscopo Ti permette Di ciulare Questo è un po' Assolutamente Sì Beh sì Da sempre Quando tu lo citavi In un tuo pezzo Anni fa Io sentivo Persone scivolare Sulle serie Per persone Intendo donne E non uomini E maschi invece Improvvisamente dire Ecco il trucco Ti è mai capitato Di azzeccare Il segno Di una persona E dire No vabbè Cioè Tu sei così No perché non c'è Mai Mai No no Mai successo Dair l'hai mai fatto Sì Ogni tanto sì Sì Ma quanto scopi Daira Dicci la verità Dicci la verità Quanto fu ci sto biscotto Credete nell'oroscopo Solo perché vi dice Sempre male Ma non è la schedina Non è il totocalcio L'arroganza Della generazione Z Cioè sul capricorno Successo Quindi io ci credo Ecco No 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 Perché tu E questo è come funziona Tu hai scelto La parola successo Dentro a quello che c'era scritto Potevi scegliere anche altro Esatto Come i numeri Fra i 90 Cosa scelgo I bambini nati I bimbi nati Il fatto è Diciamo Riuscire a farti credere Nella parola In cui tu vuoi credere È la grande bravura Di chi prova ad azzeccare Una cosa difficile da azzeccare Cioè il futuro È sempre questo il discorso Ma è giusto anche Che uno abbia la fede Di pensare che voglio La parola successo Che non sai che i bimbi nati Non erano dei bling bling Per te Non erano Dell'oro da squagliare Non lo sai Non lo sai È tutto dell'interpretazione Tant'è vero Tant'è vero che io In questo spirito Oh com'è che è successo Oh com'è che niente niente È successo Non ci sta In questo oroscopo Tante volte C'ha avuto il braccino corto Che è successo Ma cosa è successo Ah Juliette Binoche E poi mi vede la fregna Che dovevamo fare Dice un po' Ma com'è che nessuno Eh Ti ha detto un cazzo C'ha avuto il braccino corto Ma sai quanto è morbido Beh devo dire Lui lo scrive proprio Cioè lui è il mogol Dell'oroscopo Sì lui è il mogol Dell'oroscopo Sì 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 Perché nell'infiocchettare Le stronzate Bisogna avere una Grandissima abilità E devo dire che Ma lui poi Che fa Robretti a parte Comunque per me Il King è Paolo Fox Eh Come fa Paolo Fondo Fox Spezziamo una lancia In favore di Paolo Fox Una persona che fa L'astrologo Va in tv Sì Lui è la persona Grande professionista Nel preparare l'oroscopo Del 2021 Lui è la persona Che ha avuto più pressione Sulle spalle Della storia d'Italia Perché nel 2020 Aveva detto Ricordiamo Quest'anno grandi viaggi Si parte Si parte Si parte Anno propizio per i viaggiatori Ci saranno tantissime belle sorprese Fosti l'amministratore delegato Di Ryanair All'Italia E British Airways Ragazzi Fate subito case nuove Tutto quello che volete Perché quest'anno Potenziate la flotta Perché quest'anno Si parte Sky is the limit Non è andata proprio così Quindi noi ci immaginiamo Quest'anno Paolo Fox Che sta praticamente Prima di fare l'oroscopo del 2021 Ha preso I più grandi esperti Al mondo di tutto Cioè lui ha a suo fianco Warren Buffett Geologi Sismologi Burioni Bonci Quello che fa la pizza Esatto Come cazzo sta scrivere E ha partorito Un qualcosa che Sì lui quest'anno Secondo me è tutto Si gioca tutto Quest'anno Paolo Fox Se anche Se non ha zecca neanche questo L'idolo di Tahir Eh son cazze Con me ci ha zecchato Ci ha sempre zecchato Cos'è che ha detto L'anno scorso Quest'anno mi ha detto Fare i soldi Andrà bene Tutto bene Per me il 2020 Eccolo là Lo speculatore È arrivato Gli start-upper Eccolo qua Esatto Voi e le vostre Le vostre YouTube Le vostre Stram Il vostro witch Cos'è che fanno Questi giovani qua Con questo witch Non sapevo che avessimo Jeff Bezos A muovere la telecamera Qua davanti a noi Bravo bravo Allora hai fatto soldi Sulla disperazione del mondo Un complimento Bravo Tahir Molto bene Vedi ho letto Una frase a casa Del mio E mi ha già sedotto La bellezza È invece essenziale Per la nostra Salute e intelligenza E io essendo bilancia Quindi esteta Ogni volta che leggi Secondo le stelle Ogni volta che leggi Ste cazzate Mi ci rimango Insomma Ci credi molto Ma che bello Noi vorremmo fare Anche un oroscopo Con i segni Zodiacali di Kashmir Abbiamo pensato Che se Questo podcast Dovesse dare Un segno A ciascuno Dei nostri morbidissimi Ascoltatori Abbiamo qui 12 Abbiamo pensato A gennaio È il mese Del catamarano Febbraio È pantelleria Il marzo È Gli amici Nel segno Dell'argentario Aprile È il lino A maggio C'è Il segno Della ribolla gialla E qui Da luglio Abbiamo Liban Sì Giugno Scusa Giugno Giugno Liban Luglio è una bella cena Sì Sì Poi Tech Tech Io sono Del tech Io sono del tech E poi c'è Caminetto Sì No vabbè ma tu sei troppo del caminetto Quanto ha di imponibile la sua famiglia Cioè No maggiore di 300 Poi c'è un segno un po' particolare che è non parliamo più Che è parente del caminetto Perché mi immagino questa baita in montagna L'ultimo segno quello che chiuderanno è Demodè Demodè Nel senso che vabbè forse si potrebbe dare qualsiasi nome Qualsiasi storia si può inventare Con te ci hanno sempre preso Tahir Ma lo sai Mom Mi sto a ricordare Mi ha avvenuto un'illuminazione Vedi Vedi Guarda un po' Lo sai forse perché ci vedo No no per una cazzata Forse perché da ragazzino Stavo in fissa con i cavalieri e lo zodiaco Vedi Nasce tutto dall'altro Qual era il tuo preferito? Il mio Cioè Tahir C'era 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 Un cavaliere videomaker Esatto Il videomaker Crede nel successo Capricorno Capricorno Perché si chiamava Capricorno Ah ragazzi Si chiamava come? Il cavaliere lo zodiaco Un po' di istruzione per favore Ecco C'erano quelli merdine Che erano tipo Pegas o E Che però erano i protagonisti E poi c'erano i cavalieri d'oro Che erano quelli dello zodiaco Sì sì Quelli da sfidare Per Il mio preferito era Andromeda E questo la dice lunga Era andrologo Era andrologo Sai che io non l'ho mai visto I cavalieri dello zodiaco Eh Ce l'ha visto per tre E allora E io non me lo vedevo Io stavo lì e mi vedevo Yattam Sicuramente c'era 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 su Super 3 Cavaliere dello zodiaco Ma io non me lo ricordo E guarda era roba mediaset Era roba da cattivi E infatti Ti farà una domanda Forse sciocca Prego Che nasce da un preconcetto Come mai l'oroscopo È diciamo Tendenzialmente Più letto E ascoltato E vissuto Dal mondo femminile Secondo te? Perché io sono volubile Perché io sono volubile Sono leggera Guarda io Se non mi è succeduta Niente cosa Non sono contenta Guarda io veramente Stant'altro sono uscita Da casa Ho pensato Guarda E' un'altra giornata così Sono rimasta ferma a Flaminio Poi sono arrivata È perché secondo me Per questi motivi Sì è difficile pensare A un manager Che dice Cazzo oggi ho letto L'oroscopo Cazzo Se ci teremo una merda Non posso presentarmi Neanche alla riunione Cazzo Non mi ha mai Secondo me perché Chi scrive gli oroscopi È uomo Quindi dicevo Secondo me sì Oh ma in effetti C'è una Una Oddio L'astrologo e donne Ce ne sono di meno Come le filosofie C'è gender gap Anche qui O mi sbaglio Oddio A giudicare Dalle ultime Pagine Di questo Astra Che è un settimanale Che abbiamo trovato Il quale peraltro Non neanche sapevo Esistesse È il focus Delle stelle È previsioni Del nuovo anno Segno per segno Ah scusa Pensavo fosse il focus Delle stelle Invece è una cosa Serissima Noi non abbiamo Considerato Vanna Marchi Cioè tutto quanto Il fenomeno Di chi crede Invece nello spiritismo Nel comunque No Nel dare i soldi A una persona Si dà un sale Per parlare Con il cognato Eccetera A me fa paurissimo Quel mondo Fa una paura Incredibile Noi ricordiamoci Fu strisci alla notizia Che tutto nacque Grazie a strisci alla notizia Che gli fece un culo Così a loro E c'era il grande Mago Don Assimento Ho letto un articolo Adesso Fai il coaffer A San Paolo In Brasile Però pensi Ti vai a tagliare I capi Sono nato A tagliare Ormai quando Si vede Taci Sua No Ma te Ma te Sei Ma grande Ti ho dato Ducappa Per parlare Con nonna L'immortaggio Al 99 Non mi ha mai risposto Ricordiamo Per conegge il testamento E non mi ha mai risposto Cazzo Sto cazzo di bilocale a fiuggi Che dovevo fare Che c'è dovevo fare E quando è Pasqua Stiamo io Mi fratello Mi cognata Non si poteva Divide in quattro Sembra però che la situazione Non sia migliorata molto Da quegli anni Perché insomma Io qui ho C'è qualsiasi ben di Dio In questo bel giornale Per chi ci sta solo ascoltando Edoardo sta sfogliando Astra E ha appena trovato delle pagine Che se li chiama La guardia di finanza Gli fa un buco di culo Come una capanna Cioè qui ci sono anche Dei segni un po' No? Un po' mattacchioni Qui vedo Ma c'è una stella a cinque punte Eh stella a cinque punte Vabbè ma sarà La sezione brigate rosse L'astrologia Guarda qua invece Abbi pazienza Scusami Cioè cartomanzia professionale 24 ore Ma scusa la domanda Ma la professionalità In questo mondo Cioè ti rilascia L'attestato di persona Che sa leggere le stelle Può chiedere soldi In base a come legge le stelle Ma sa quante truffe hai fatto Non te lo so dire Quanti pugli hai acchiappato Guarda Però qui c'è una signora Che si definisce Dottoressa Maria Ramirez Esperta in scienze esoteriche Ed alta magia Ora io ho frequentato Roma 3 Non ricordo Che fra ingegneria Giurisprudenza Ci fosse anche La facoltà di scienze esoteriche Magiche Però può darsi Che nell'anno in cui ho fatto Era accorpata fisica Può darsi che mi ricordi male E invece la lettura dei sogni L'hai mai frequentata? La lettura dei sogni? No Devo dire che avevo No Avevo alcune amiche Che avevano letto al liceo L'interpretazione Dei sogni E se gli raccontavo il sogno Loro mi facevano Un'analisi Bocchino Un'analisi assolutamente Accurata Su quello che era successo Però Interpretazione dei sogni Mai Tu invece ti sei affidato Dei cartomanti No Mai Mia madre ogni tanto Ha provato a dirmi Amore E se sogni Che ti caschino i denti Hai problemi di aggressività Però mia madre mi dice Anche quando mi strappo Il polpaccio Giocando a tennis E nella tua vita Hai problemi di aggressività Ok Sono tuo figlio Evidentemente Penso che il mondo Però no Ma io Uno dei grandi misteri Della vita Che mi chiedo spesso Cioè come mai Dio o chi per lui Per divertirsi Ha deciso di legare I sogni La fase REM La produzione dei ricordi Del sogno Alla digestione Cioè perché ha detto Se mangi merda Sogni cose Che fotoniche È una delle più grandi idee Che siano mai state create Nella storia del nostro cervello Cioè tu mangi Io tipo a me piace andare Al sushi O looking at Io so Che di notte Andrò al cinema Per 12 ore di fila E mi sveglierò La mattina E dice Tipo Ho avuto rapporti sessuali Con Luca Laurenti Ma era vestito da mia mamma Questo è quello che sogni E so che andrò a dormire E sognarò qui Perché Luis Bugnell Scriveva così Tutti i suoi film Certo Lui andava all'All you can eat All'epoca in Andalusia Mangiava tutto quel che poteva E poi scriveva Comer todo lo que puede Todo lo que puede Saves Ma a te non capita Che se mangi storto Poi fai i sogni La mattina dopo Assolutamente sì Posso sognare Interpretazione dei sogni Ho sognato che ho mangiato Il minecamp Cosa che l'ho ingoiato Invece eri solo andato In bagno da Carmelo Esattamente Era soltanto quello Comunque ragazzi Davvero Sono tutte quante cose Che possiamo chiedere Perché c'è ancora un mercato Estremamente fiorente Adesso noi non diciamo Il nome di questa Perché non vogliamo fare pubblicità Però leggo Nome Sensitiva Sono X Sensitiva Manu Tanto non diciamo il numero Sono Manu Sensitiva cartomante Maga e medium Da oltre 15 anni E mi occupo di alta magia Cartomanzia E astrologia Per passione Attenzione Fin da bambina Possiedo Strani doni Che mi consentono Di percepire Gli eventi futuri Al principio Si manifestavano Come fenomeni casuali Poi con il tempo E con lo studio Li ho ampliati E potenziati Per potervi aiutare Anche a distanza Col coppio Che giustamente In questo periodo Affinché possiate scegliere Il sentiero più giusto Per il vostro destino Le mie straordinarie E doti Vi aiuteranno A risolvere problemi D'amore D'invidia Economici Malinconia E insoddisfazione E poi c'è il claim Che vale il prezzo Del biglietto Se vuoi Con Manu Puoi Dopo questo Io Ho già il telefono In mano Veramente Ho già il telefono In Manu In Manu Potrebbe essere Un altro claim Per questa Sedicente Fattucchia Massimo Del Forte Hai problemi Con la persona Che ami? Non tenetevi dentro I vostri problemi Per aiutarvi A risolverli In brevissimo tempo Basta una telefonata Ma c'è Toglie qualsiasi Forma di negatività Lega la persona Amata Però vedo che qui Non è un numero 899 Quindi i soldi Come te li prende? Credo Credit card No vabbè ragazzi Però c'è Il maestro di vita Che può cambiare la vita Maestro De Carolis Coach Fra parentesi Maestro di vita Psicoveggente Fra parentesi Indovino Per passare Dalla sfortuna Alla riuscita Madonna Questo è un sogno Perché paura Madonna Ha curato esame Del vostro problema Che dopo averne individuato La casa da radice Non stesse insieme Lo risolveremo Ma andare a parlare Col prete Andare a chiedere a lui Due consigli Esperto in eliminazione Della negatività E anche della sfiga Se li piate per culo Poi mi fanno il malocchio Sì infatti Ha gestato a corto Marone Tenga mano a palle Tenga A gualle rappese In macchina Allora pensiamo Pensiamo a come chiudere La puntata Perché noi abbiamo La telefonata al maestro Certo cazzo Era figo Eh beh lo so Però Io vi voglio dare Uno spunto invece A favore Visto che voi Avete ironizzato molto Ho chiesto ad un Luminare della psichiatria Cosa ne pensasse Della possibilità Di prevedere Le personalità Tramite Gli oroscopi E in realtà Mi ha detto Che la psicologia E la psichiatria Accettano Che ci siano Delle personalità Che hanno delle cose In comune Perché essere nati A giugno O essere nati A gennaio Fa sì che tu abbia I primi mesi Di esperienze simili Quindi ad esempio Uno nato a giugno C'ha le ferie L'estate Va al mare E quindi I primi mesi di vita Potrebbero in realtà Dare una sfera comune Alle persone nate Nello stesso periodo Pensa Nell'altro emisfero Nell'altro emisfero Infatti L'astrologia È basata Sul luogo di nascita Ah vedi Certo Questo non lo sapevo Perché Quindi per i lettori Di chi In Nuova Zelanda Possono prendere E buttare Nel cestino L'oroscopo Di questa settimana Assolutamente sì Perché è basata Su la costellazione Che hai all'orizzonte Quando nasci Per dire L'internazionale Con l'ottimo oroscopo Di Rob Bresni Quello sarà internazionale Veramente per tutti Quindi all'acquario A Wellington Sarà differente Dall'acquario A Non lo so Infatti Bresni Non è all'università In psichiatria Esatto Sicuramente E bene Ritengo che Insomma Ci siamo formati In questa puntata Su spiritualità Sì Forse Io mi sento già più pieno Sì Sì Io più vuoto Nel senso che ho un po' fame Di spritz E ti capita mai Di fare Prima stavamo parlando Dei sogni Però Tu fai I sogni ricorrenti Ti capito? Sì Io ho il sogno ricorrente Di perdere un aereo Io sogno sempre Di perdere un aereo Questo perché sono Un ritardatario Probabilmente Ma ci sono anche Senz'altro Delle implicazioni Più profonde Che io non voglio sapere Perché mi terrorizzano Queste cose A livello psicologico Sapere i sogni Tu che sogno fai? Beh ti ho detto Secondo me dipendono Tutti dalla digestione Legato all'aereo Sogno spesso Di decollare All'interno Di una città Con grattacieli Con le ali Che rischiano sempre Di toccare gli altri palazzi Io mi cago addosso Finché non mi sveglio Allora a me Una volta Un mio amico a tradimento Mi ha detto Che nei sogni I mezzi di trasporto Rappresentano la tua vita Quindi è come se Evidentemente Stai perdendo un appunto Tant'è vero che io mi ricordo Facevo sempre questo sogno All'università Quando studiavo giurisprudenza Sognavo sempre Che stavo perdendo un aereo Probabilmente perché Non era un periodo Di grande incertezza Questa tua cosa Di stare in mezzo Sempre in Billy Perché sta per toccare Sempre Poi devo sempre fare scalo In questo cazzo di volo Non so perché Un volo non intercontinentale Devo sempre fare scalo Sempre Arriviamo a Londra Ma prima di andare a Londra Ci faremo in Germania Perché è coerente Anche con la geografia Certo Ma perché non può andare mai diretto Sto cazzo di volo Sempre a fare scalo Questo è classico Perdere i denti Il classico Questo è il classico Però che vuol dire Perdere i denti Non avere paura Di non avere aggressività Nella vita Mi disse Ah ok Mia mamma Quindi c'è perché il dente Ovviamente è l'aggressività Ti è mai capitato di sognare Di perdere un pezzo del cazzo Che ti cade Un pezzo del cazzo Guarda la base No La cosa centrale La cappella La cappella Che mi cade a terra E si infrange Come se fosse di ceramica Come se fosse un posacenere Esatto Onestamente mai a te A me più e più volte Mi ha capitato di sognare Dopo quale episodio Ma in vari momenti della mia vita Cioè proprio Si perde E E' Meno lungo Cioè nessuno Proprio sono io Che dico Caspita Ma vedi Non sta sanguinando Ecco Il mio cazzo Quanto è bello svegliarsi Ma esatto Che rumore fa Fa il rumore di una pipa Che cade a terra Fa il rumore Esatto Cioè si infrange Fa plop Come se fosse uno stronzo Di un labrador Ah così Si disintegra Quello è un grande classico E poi un altro grande classico Non riuscire a fare la cosa Che stai per fare nel sogno Cioè C'è una gara Che devi fare Stai per partire Guarda là C'è un cagnolino dentro al sogno Ti distrai E il sogno se ne va a fanculo Certo E non riesci per fare la gara Oppure scopare Stai per scopare Tutto set Tutto a posto Non c'è nessun problema Stiamo per fare sesso Dentro al sogno Ok sono eccitati Sveglio Sì questo succede Frequentissimamente Penso che succede a chiunque Nessuno ha rapporti completi Dentro i sogni Non so se a voi ragazzi Capita di avere rapporti Poi Secondo me fuma anche la sigaretta Dentro al sogno Alla fine Esatto E però poi ti sveglia C'è veramente il fumo Nella stanza Esatto Che paura Io non ho mai sognato Che mi cadesse il pene Ma mi è successo veramente Ah ok Va bene Va bene Gli è caduta E va bene Gli è che scatta la cappella A terra Carmelo Ok scusate È che l'avevo sentito male Ma sì Stai in corridoio Bene Direi che possiamo Ritenere la puntata terminata Su queste note Sulla nota Veramente Su questo sol diesis Della cappella di Carmelo Che cade a terra Come avrebbe detto Scola Una puntata particolare Abbastanza E volevo solo dire Che se voleste Chiamare Nikos Che è il signore della luce E conosce le tenebre Più profonde Per ricondurti A quel bene Che vince sempre Forse conosce le tenebre Ma non conosce la grafica Perché il suo logo È in Comic Sans Noi vi ringraziamo Per aver seguito Questa puntata E ci vediamo La prossima settimana Con un'altra puntata Di Kashmir Grazie Dair Grazie Carmelo Ciao a tutti Ciao